E' stato dichiarato colpevole di omicidio colposo il titolare di una ditta di impianti elettrici della provincia di Sernia per inosservanza della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Una omissione che nel 2014 era costata la vita a un giovane operaio originario di Sepino di appena 24 anni e assunto con contratto di formazione. Un volo di 5 metri che non gli aveva lasciato scampo. La ditta stava eseguendo dei lavori nel nucleo industriale di Pozzilli quando il giovane era salito sul tetto di un capannone in vetroresina che non aveva retto il suo peso facendolo precipitare. Secondo il tribunale di Sernia che ha emesso il verdetto il titolare della ditta presente sul luogo al momento dell'incidente non si sarebbe accertato prima di procedere all'esecuzione dei lavori che il lucernario avesse una consistenza e una resistenza sufficiente a sostenere il peso degli operai e del materiale di impiego e non avrebbe neppure adottato appostamenti atti a garantire l'incolumità dei suoi dipendenti come l'utilizzo di tavole sopra le orditure. Assenti anche sistemi di protezione individuale che avrebbero potuto evitare la caduta dall'alto. Tutto questo secondo il giudice Marina Guenzi avrebbe causato la morte del giovane elettricista. Proprio alla luce dell'età della vittima e della gravità del fatto il titolare sarà tenuto a un risarcimento di 100.000 euro nei confronti del padre e del fratello parti civili nel processo.